Fa molta paura il virus e questa è stata un'altra settimana difficile per la Toscana e per tutta l'Italia. Non va ovunque allo stesso modo, certo ci sono aree a maggior rischio, la Commissione Sanità e l'intero Consiglio regionale seguono da vicino ogni sviluppo. Anche la questione degli stori è fondamentale in attesa del nuovo decreto del Governo, ogni regione fa quel che può e qui grazie ai risparmi del Consiglio sui costi della politica ci sono interventi mirati per alcune categorie, in particolare sono stati pubblicati i bandi per il contributo una tantum ai maestri di sci e alle proloco. Il Monte dei Paschi è la nostra banca e sul suo futuro non ci possono essere incertezze, un'intera seduta del Consiglio regionale è stata dedicata agli sviluppi delle trattative che coinvolgono il gruppo senese non ancora del tutto chiare. Alla fine a larghissima maggioranza passa un documento per rinviare la privatizzazione. Torneremo anche su un atto approvato la scorsa settimana che ha a che fare con il tema ambientale perché con un finanziamento di circa 4 milioni aiuterà i comuni a creare parcheggi e a decongestionare i centri urbani. È il presidente della giunta Eugenio Giandia ad introdurre il dibattito sul Monte dei Paschi, rivendica il suo grande impegno sulla questione fin dall'inizio del mandato, chiede che venga difesa l'identità toscana della banca più antica del mondo e sulla privatizzazione? Se le alternative sono Monte dei Paschi da incorporare o Monte dei Paschi da mantenere nella sua autonomia e nel suo profilo, almeno per un paio d'anni come la banca pubblica che possa sostenere una prospettiva. Io sono chiaramente su questa seconda strada. Ho fatto l'appello al Consiglio regionale perché il Monte dei Paschi possa mantenere quella identità che significa lavoratori da difendere, significa management da tutelare perché abbiamo dei dirigenti di primo ordine, che significa prospettiva di mantenimento di una banca pubblica che sia di motore a tutto il rilancio e alla ripresa dopo l'emergenza economica che segue l'emergenza sanitaria. Alla fine passa una risoluzione a maggioranza che chiede tre cose, tutelare il marchio, il lavoro e mantenere la governance in Toscana, fermando il processo di privatizzazione, il frutto di una rielaborazione di diversi documenti. Uno in particolare era stato presentato dal PD. Dobbiamo lavorare perché sia dato un futuro a questa presenza e all'azione che questo istituto potrà continuare ad avere nei confronti della nostra economia, soprattutto delle piccole medie imprese, delle famiglie e continuare anche a dare occupazione diretta così come ha fatto e sta facendo. Per far questo riteniamo che deve essere rinviata l'uscita del capitale pubblico dal Monte dei Paschi e questo anche per dare la possibilità di continuare a lavorare per tutelarne il marchio, che è un marchio glorioso, il radicamento, i livelli occupazionali, il suo ruolo nel tessuto economico e sociale della Toscana. L'altro pezzo della maggioranza, il gruppo di Italia Viva, parla attraverso il suo capogruppo che è originario proprio della provincia di Siena, territorio che ora teme di perdere la sua banca. Il governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane, chiediamo di assumersela facendo in modo che i dipendenti, marchio, storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda il centro Monte Paschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia, non si può perdere questa storia, abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro, quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva il dossier Monte Paschi rafforzando questa storia, dandole ambizioni e soprattutto consentendole un grande percorso di crescita e di rafforzamento e di consolidamento. Dal centro-destra aggiungono molte critiche alla gestione della banca, considerata troppo politicizzata, i consigliari della Lega ricordano le perdite maturate nelle acquisizioni di Banca 121 e Anton Veneta. Chiaramente il depavoramento del patrimonio il Presidente del Consiglio Draghi l'ha vissuto insomma in tutte le sue fasi, quindi noi siamo fiduciosi intanto che il Presidente del Consiglio possa dare un impulso diverso a quello che è il valore della banca anche sul territorio, anche per la tutela dei 20.000 posti di lavoro perché circa 7.000 li avevamo già perduti, c'è una valenza ovviamente anche del mantenimento della sede dirigenziale nella città di Siena, c'è chiaramente il valore del brand Monte dei Paschi, sono tutti argomenti che dipendono anche dall'azione che noi riusciamo a fare dalla regione e dal territorio. Duro anche il giudizio di Forza Italia, per il Capogruppo Stella le responsabilità politiche sono della sinistra, l'unica via d'uscita è il mercato ma ora serve uno stop per tutelare la toscanità della banca e i posti di lavoro. Noi come sempre da Forza Responsabile abbiamo detto di sì al documento unitario dove il caposaldo era quello che ormai chiediamo da sempre, che il nostro senatore Massimo Mallegni ormai da tanti mesi dice, cioè la salvaguardia dei posti di lavoro, la salvaguardia delle aziende e lasciare Monte dei Paschi nelle mani del Tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la quarta banca italiana, la banca più vecchia al mondo per dare delle radici solide. Questo non esula però dalla responsabilità del Partito Democratico di quella gestione di quella banca, dalla commissione fra la politica e la banca perché se quella banca è fallita c'è un nome e un cognome, era chi guidava le amministrazioni locali, chi guidava la provincia, chi guidava i comuni di quel territorio, chi all'epoca era presidente del Consiglio dei Ministri che scelse i membri del CDA della banca, il presidente della banca che con una scellerata decisione decisero di acquisire Anton Veneta e Banca 121. Il terzo gruppo nel centro-destra è quello di Fratelli d'Italia che si batte in ogni settore per mantenere l'italianità delle aziende strategiche, banca MPS compresa. Noi pensavamo quando Giuseppe Conte era presidente del Consiglio che la privatizzazione di MPS andasse rimandata di almeno 24 mesi. Ora è cambiato il presidente del Consiglio e non è che perché adesso si chiama Mario Draghi e di professione ha fatto per una vita il banchiere noi cambiamo idea. Noi rimaniamo convinti che si debba procrastinare di 24 mesi la privatizzazione di MPS. Così come su altri temi. Noi non possiamo oggi arrivare in aula e votare un documento in cui ci diciamo che ci vogliamo tutti bene e che dobbiamo salvare MPS per il bene di Siena e ci mancherebbe altro. Tutto vero. Ma non possiamo ignorare quello che è successo negli ultimi anni. E Fratelli d'Italia al voto si astiene all'unico gruppo a distinguersi con un voto non favorevole mentre il Movimento 5 Stelle dice di sì ricordando tuttavia gli esiti della vecchia commissione d'inchiesta regionale sulla banca e auspicando azioni diverse dalla politica regionale su questa questione. Questo è il momento invece di andare davanti al governo nazionale, agli interlocutori a dire chiaramente cosa vogliamo fare per sostenere la banca più antica del mondo che ha dato prestigio e tanta ricchezza alla nostra regione ma anche all'Italia. E questo lo dobbiamo, l'intervento che è stato fatto per salvarla, ricordiamolo che è stato fatto anche al prezzo delle tasche di tutti noi cittadini dal momento in cui è stata acquistata la parte delle quote. Quindi il salvataggio è importante ma è importante in questo momento pandemico anche cercare di capire quali sono i tempi giusti che sono non meno importanti delle giuste decisioni. Il commento finale al termine della seduta lo affidiamo al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. C'è stato uno sforzo teso all'unità, ci siamo arrivati molto vicini. L'obiettivo primario era dare al Presidente Eugenio Gianni una linea di indirizzo largamente condivisa da tutte le forze politiche. Questa risoluzione basa su tre assunti fondamentali. Il primo, fare in modo che venga tutelata l'occupazione, venga valorizzato le professionalità di chi opera all'interno del Monte dei Paschi. La seconda, che qualunque sia la strada che verrà scelta nei prossimi mesi, la direzione della banca resti a Siena. E la terza e non ultima è quella di valorizzare il marchio Monte dei Paschi. Torniamo indietro di una settimana quando in un quarto della pandemia ancora grave il Consiglio regionale aveva riflettuto sui ristori sollecitando ad allargare il numero di beneficiari. L'Assemblea aveva votato all'unanimità due risoluzioni che prima erano state discusse e votate nella seconda commissione. Abbiamo costruito due atti approvati all'unanimità. Uno in particolare che impegna la Giunta ma anche la conferenza Stato-Regioni ad utilizzare tutte le risorse possibili sia europee, quindi quelle avanzate dagli scorsi bandi europei, sia il recovery fund e quindi tutte le misure possibili anche nel caso di sgravi fiscali e quindi con un impegno sia per le Regioni e a cascata sui Comuni, ovviamente previa autorizzazione del Governo e compensazione del Governo. Quindi abbiamo cercato di impostare un ragionamento generale su tutte le possibili fonti di finanziamento, dividendo in due la parte dei ristori che spetta principalmente al Governo e la parte della ripartenza che spetta prevalentemente alla Regione. Nel secondo atto abbiamo invece cercato di individuare, facendo un grande lavoro con tutte le mozioni che erano arrivate nello scorso Consiglio, le categorie che hanno sofferto di più. Dicevamo del consenso che è trasversale, impegna tutti e tutti si impegnano a far sì che da Roma, dal Governo, arrivino risposte più incisive, quelle che si stanno preparando nel cosiddetto decreto sostegno. Questa necessità nasce ovviamente dalla volontà condivisa, anche a dimostrazione che ogni tanto si può anche lavorare insieme e di riportare in commissione alcune mozioni di tutti i partiti che riguardavano tutte quelle aziende e quelle attività che hanno bisogno e che hanno subito grossi danni nel periodo della pandemia. Siamo riusciti a portare tramite un nostro atto la riformulazione di quel bando per i ristoratori, per i bar che prevedeva il calo del fatturato di almeno il 40% per poter accedere. L'abbiamo spostato al 30% proprio per consentire a queste categorie, che sono tra le più pesantemente colpite di poter ricevere qualche aiuto anche dalla Regione. E poi abbiamo sollevato i grandi temi anche da portare al Governo, come per esempio il tema degli albergatori. Oggi siamo arrivati alla votazione in aula di un atto congiunto che ha raccolto tutte queste proposte, perché andavano in tutti i campi. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle siamo riusciti a fare inserire anche un contributo per le scuole di lingua e cultura italiana, che sono in particolare sofferenza proprio perché mancano gli studenti ovviamente. Nessun distingo qui a Firenze in Consiglio regionale, non ci sono su questo tema contrapposizioni tra gruppi e schieramenti. È emerso un atto condiviso al quale abbiamo lavorato insieme a tante forze politiche, anche noi abbiamo portato il nostro contributo. È importante dare un ulteriore sostegno a molte attività produttive che in questo momento sono chiuse, che vivono una fase complessa di difficoltà. Va dato sostegno ovviamente ai ristoratori, non solo, anche al commercio, il commercio di vicinato, così come dentro i centri commerciali, sta soffrendo in maniera molto forte perché le persone ovviamente sono in fase di lockdown, possono circolare poco, non ci sono scambi fra comuni. È un momento difficile, quindi anche il commercio al dettaglio ha bisogno di risposte nuove che finora non sono state date perché comunque in alcuni casi le attività sono aperte. Noi come Forza Italia siamo partiti da un punto fermo però su quel decreto ristori che erano stati stanziati dei milioni di euro per l'oreca, cioè per la ristorazione, per la somministrazione, per la ristorazione, per i bar, per tutta una filiera che riguardava appunto l'oreca. Quei soldi lì devono rimanere in quel comparto. Poi abbiamo chiesto che il governo stanzi ulteriori risorse per aiutare alcuni comparti che sono estremamente colpiti, che non sono stati tenuti in considerazione dalla regione, che hanno avuto pochissimo dallo Stato e quindi abbiamo bisogno di mettere una dimensione di danaro fresco nelle casse delle nostre aziende. Penso ai tassisti, penso agli ambulanti, penso ai mercati fieristi, penso agli alberghi, penso a tutto ciò che ruota intorno al turismo e mi sento di dire, l'ho detto anche in aula, che la Toscana non è tutta uguale. Noi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità anche nella gestione delle risorse e soprattutto come spendiamo le risorse a chi le diamo. Il consigliere Petrucci di Fratelli d'Italia insiste in particolare ancora una volta sulle perdite ingenti della montagna che vanno risolte al più presto. La montagna ha bisogno di aiuto perché per tantissime persone, per migliaia di persone lo sci è un divertimento ma per migliaia di lavoratrici e di lavoratori non solo è l'unica possibilità di lavorare ma è anche l'unica possibilità di continuare a vivere in montagna perché chiaramente intorno all'industria dello sci ci sono posti di lavoro che altrimenti le persone non avrebbero altra possibilità di occupazione. Noi abbiamo fatto come Fratelli d'Italia sabato scorso un flash mob davanti all'impianto di risalita di tutta Italia, anche davanti all'impianto di risalita di Abetone, oggi qui in Consiglio regionale per chiedere di mantenere l'attenzione forte e la lente di ingrandimento aperta su questo settore strategico che coinvolge tantissime migliaia di imprese sia a livello regionale che a livello nazionale. E c'è anche lo stesso Petrucci che è anche nell'ufficio di presidenza del Consiglio la conferenza stampa con cui si annunciano i nuovi bandi per i ristori, per i maestri di sci e le proloco. Noi abbiamo provato a fare la nostra parte, una piccola, piccolissima parte mettendo a disposizione le risorse derivano dai risparmi della politica, lo abbiamo fatto in pochi mesi dalla nostra elezione in ufficio di presidenza, in maniera unanime tutte le forze politiche, dopo aver sostenuto nel passato le associazioni sportive, dopo aver sostenuto le guide turistiche, con il risparmio di un milione e mezzo di euro vogliamo sostenere il mondo della cultura, le proloco e in questa specifica situazione anche gli operatori e i maestri di sci. Sappiamo che stanno vivendo un periodo difficile e questo bando permetterà a loro di avere un piccolo ristoro ma fino a un massimo di 800 euro. Le domande potranno essere presentate entro il 15 di marzo per quanto riguarda i maestri di sci, entro il 26 di marzo per quanto riguarda le proloco. Le categorie interessate sono rappresentate qui a Firenze all'iniziativa che abbiamo seguito con una nostra trou. La stagione non è mai partita, quindi i maestri di sci da tantissimo tempo da marzo all'anno scorso che non percepisce reddito per sopravvivere, quindi ringraziamo la Regione Toscana di questo contributo perché almeno attenziona il problema. Chiaramente non è una risoluzione generale globale ma è un'attenzione che accogliamo di buon occhio e quindi ringraziamo tutti con l'auspicio che ovviamente si possa iniziare un percorso anche di rinascere tutta la categoria della montagna e delle persone che in essa vivono. Ci aspettiamo che quest'anno la situazione migliori anche se al momento non sembra che ci siano grandi prospettive, però ci ha colpito molto l'unanimità da parte del Consiglio regionale che ha colto la proposta del Presidente Mazzeo e quindi siamo veramente lieti che l'attenzione del Consiglio regionale della Toscana possa portare anche a una maggiore attenzione per il ruolo importantissimo che svolgono le proloco soprattutto nelle piccole località dove sono il cemento, l'unione anche fra la popolazione. Ascoltiamo allora anche Petrucci e Scaramelli. È intanto una boccata d'ossigeno ma è chiaramente insufficiente sia per la categoria dei maestri di sci, tanto più per la montagna che invece ha bisogno di un intervento più importante dal Governo nazionale in prima istanza ma anche da Regione Toscana. Io ho chiesto, continuerò a chiedere, lo farò all'infinito finché non otterremo un risultato che per la montagna si stanzi per lo meno quanto si è stanziato per la Fondazione Toscana Cultura e per il Maggio Fiorentino che sono sicuramente due entità da proteggere, da salvaguardare ma anche la montagna. Le proloco sono una sorta di sentinelle della cultura e della vitalità delle nostre municipalità. Aiutare le proloco vuol dire aiutare i nostri comuni, aiutare quelle associazioni che rendono vive quelle comunità diffuse in Toscana. Il Covid ha bloccato tutto, soprattutto le attività culturali, quindi sostenere le proloco vuol dire aiutare a tenere in vita un sistema che può farsi trovare pronto nel momento in cui appunto la pandemia non ci sarà più e quindi magari potremo ritornare a fare quella vitalità sociale, però in questo momento serviva utilizzare e avere delle risorse per tenere in vita le attività delle proloco e abbiamo condiviso come Consiglio regionale, ufficio di presidenza questa opportunità di dare un sostegno economico a tutte le proloco diffuse in Toscana. Quante volte abbiamo parlato del traffico e dell'inquinamento nelle città e quante volte abbiamo indicato nella realizzazione dei parcheggi una possibile soluzione al problema. Il Consiglio regionale nella sua seduta di fine febbraio ha approvato la legge che stanzia contributi ai comuni per realizzare parcheggi nelle città. Gli antilocali porranno contare su risorse fino a copertura delle rate di ammortamento dei mutui durata massima 20 anni. I progetti però dovranno rispettare alcuni requisiti. Intermodalità con il servizio pubblico, il fatto che nella città o paese ci siano pochi posteggi, quindi non si è rispettato il parametro previsto dalla legge, ma soprattutto è quello di alleggerire da una parte i centri storici, dall'altra creare anche dei posteggi di quelli che si chiamano di testata per far sì che le auto girino meno nelle nostre città e invece si favorisca il posteggio dell'auto e poi la percorrenza a piedi. Questo perché ci sono delle zone particolarmente critiche. Il presidente Gianni che ha fortemente voluto questa legge nel suo tour di questi cinque anni nel visitare i comuni ha raccolto e registrato da parte di molti sindaci questa criticità e quindi ha deciso di investire un milione e mezzo per tre anni e di creare le opportunità per le amministrazioni che vorranno fare richiesta. Quindi si realizzeranno posteggi grazie anche all'aiuto della regione toscana. La Lega vota a favore insieme alla maggioranza. Crediamo che cercare di sostenere i comuni anche nelle opere che devono portare sul territorio per garantire una maggior vivibilità di quelle zone sia importante. Abbiamo apportato un emendamento che è stato approvato dalla maggioranza che si riferiva a tutte quelle aree turistiche che erano escluse da questa legge ma che noi riteniamo che in alcuni periodi dell'anno soprattutto abbiano bisogno di maggiori parcheggi. E per noi rimane centrale il tema dell'aiuto ai comuni perché il sindaco, le amministrazioni comunali sono il primo front verso la popolazione ma sono in forte difficoltà. Forza Italia, Fratelli d'Italia con un'eccezione e Movimento 5 Stelle però si astengono. A me fa un po' paura l'idea di realizzare Tukur grandi parcheggi così senza mettere delle limitazioni. Concordiamo nel fatto che ci debba essere un'intermodalità tra i parcheggi, i scambiatori e una mobilità meno impattante per la città che porti meno auto in centro. Però con questo non ce la sentiamo di assecondare in modo generalizzato proprio per l'esperienza che ho avuto in Consiglio Comunale a Firenze. Noi con Regionando torniamo venerdì prossimo per una nuova puntata sempre dopo il Tg della Sera.